Il 13 dicembre è arrivato. Dopo il successo dell'edizione The Lux del mio libro I Carrieri dello Zodiaco, la guida finale, con una guida completa alla storia del mondo di Senseia, dalle origini all'arrivo in Italia, a tutte le varie serie, gli spin-off, i personaggi e così via, da oggi è disponibile anche l'edizione regular su Amazon. Link in descrizione, l'edizione stampata direttamente da Amazon, che praticamente la stampa on demand, quindi non appena eseguite l'ordine Amazon stampa una copia e poi si occupa autonomamente della spedizione. Quindi ecco qui, dopo la The Lux, anche la regular, link in descrizione. Oggi parliamo dell'armatura di Odino, di questa corazza che, come ben sappiamo, è centrale allo svolgimento della serie di Asgard, ma che poi è stata abbastanza messa da parte per anni, prima di ricomparire, una decina d'anni fa circa, in Soul of Gold. E l'armatura di Odino è particolare, per non dire anche unica, da tanti punti di vista, è molto più piena di storie da raccontare, di dettagli nascosti, di quanto non si possa pensare. Cominciamo, come sempre, dal nome. Il vero nome, il nome esatto di questa corazza è Odin Robb. Robb è lo stesso termine utilizzato per l'armatura di Asgard, il che vuol dire che, in questo caso, l'armatura di Odino non è una Kamui. Pur essendo l'armatura di una divinità, non deve essere confusa con le Kamui che vengono citate alla fine della serie di Hades. Va detto che noi finora, a meno nella serie classica, non abbiamo mai visto delle vere Kamui. Infatti, anche Atena, Aden e Nettuno indossano rispettivamente una Cloth, una Surplice e una Skale. Quindi, finora, noi abbiamo sempre visto le divinità con indosso versioni potenziate delle corazze della loro casta, ma non abbiamo mai visto una vera armatura divina. Quindi, anche in questo caso, l'armatura di Odino è una Robb, non una Kamui. Cioè, nonostante, ovviamente, quando l'armatura è stata presentata nella serie, non si sapeva che Kurumada avesse in mente di creare le Kamui, quindi viene detto che questa è l'armatura che Odino indossava nelle epoche mitologiche sul campo di battaglia. Questa non è una contraddizione, visto che, appunto, abbiamo detto che Atena, Aden, eccetera, utilizzano Croth e Skaleo, però è impossibile dire se esiste anche una vera Kamui di Odino, o un qualsiasi cui avente gli dei nordici abbiano delle Kamui, o se questa sia la sua unica armatura. L'armatura di Odino, lo sappiamo benissimo, che è centrale allo svolgimento della serie di Asgard, ed è un po' il tesoro che Pegasus e compagni devono ottenere per poter liberare Ilda dalla spada Balmung. Va detto che, sebbene Balmung venga nominata molto presto nella serie di Asgard, praticamente già nell'episodio 75 viene tirata in barro, invece l'armatura di Odino è un qualcosa di completamente inaspettato, finché poi non si manifesta la fine della saga. Fino a quel momento noi ci aspettavamo che Pegasus avrebbe ottenuto soltanto la spada e non indossato l'intera armatura. Nel momento in cui l'armatura di Odino compare, nell'anime è la prima armatura divina che sia mai stata mostrata, che venga mai presentata. Detto questo, però, nel manga era stata già presentata l'armatura di Nettuno. Infatti, nel momento in cui l'anime mostra Pegasus che indossa l'armatura di Odino, il manga è già verso la fine della serie di Nettuno, verso la battaglia finale dei protagonisti contro Julian. Considerando che l'armatura di Nettuno viene mostrata molto presto nel manga, proprio all'inizio della saga di Poseidone appunto, quindi sicuramente non si può dire che l'armatura di Odino sia la prima armatura divina ad essere stata mostrata in assoluto. È la prima nell'anime, ma non in termini assoluti. Per questo motivo ha un design estremamente semplice, forse pure un po' troppo. Se la paragoniamo a armature divine, soprattutto della serie di Ade, Hypnos, Thanatos, Ade stesso, ma anche Atena, è un design estremamente semplice. Copre più o meno quanto un'armatura di bronzo, copre persino meno di molte armature di Asgard, ironicamente, è priva di elementi decorativi particolari, non ha ari, non ha niente di estremamente vistoso. Questo è un discorso che si può applicare in parte anche a armature di Nettuno. Infatti la scale di Nettuno non è molto diversa rispetto alle scale dei generali. Però in questo caso, con la armatura di Odino, questo discorso va fatto all'ennesima potenza, perché se la scale di Nettuno è paragonabile a quella dei generali, invece questa di Odino sembra ancora meno coprente rispetto a quella degli altri asgardiani, sembra quasi un downgrade. Il motivo è ovviamente pratico. L'armatura di Odino non è stata creata né da Kurumada, ma neanche da Raki e Imeno. È opera di un ingegnere di nome Masaya Sasano. E Masaya Sasano è colui che, lavorando per Rabbandai, ha creato tutti i progetti delle armature di Asgard e questi progetti poi vennero soltanto adattati per l'animazione da Raki, Imeno e tutti gli altri membri del team di disegnatori. Quindi l'armatura di Odino venne creata con in testa un'idea molto pratica di farne un modellino, un giocattolo. E ovviamente più è semplice il design, più è semplice fare il giocattolo e quindi si optò per qualcosa di molto lineare, di molto facile da produrre. Sempre Sasano ha raccontato in intervista che, per il design, si è ispirato al mito di Rear 2 e la spada nella roccia. Questo totem dell'armatura di Odino simboleggia appunto una roccia all'interno della quale è conficcata la spada Balmung, quindi è un riferimento diretto alla leggenda della spada nella roccia che, ricordiamoci, non è Excalibur, nonostante spesso le due cose vengano confuse. Per quanto riguarda il colore, invece, è stata resa azzurra perché era il colore degli zaffiri di Odino, quindi l'idea era che i sette zaffiri poi evocassero questa armatura e che le due cose avessero in comune la tinta. A parte Balmung, armatura di Odino non ha poteri particolari e non sembra dotare Pegasus di un particolare power-up. Sono ancora lontani i giorni delle armature divine che permettono a Pegasus di sconfiggere Thanatos. In questo momento, contro Ilda, Seiya, sì, sicuramente si ricarica, si rialza dopo che fino a quel momento stava praticamente barcolando, però non riceve un power-up tale, così vistoso, da cambiare drasticamente i risorti del combattimento. Sembra una normale ricarica, un po' come quando indossa l'armatura d'oro. Sempre inoltre l'armatura di Odino non è dotata di ari, quindi Pegasus non acquisisce la capacità di volare o niente del genere. Sembra resistente, sicuramente lo protegge dai coppi sia della Neuro del Nibelungo, sia in generale del Cosmo di Ilda, ma nemmeno poi così resistente che Pegasus possa subire i colpi come se niente fosse. Insomma, se non fosse per la spada, è un'armatura che tutto sommato passa abbastanza anonima, abbastanza inosservata. La spada, ovviamente, è un altro discorso, è in grado di difendere anche gli attacchi energetici, resiste al potere della Neuro del Nibelungo e, come sappiamo, alla fine votrancia in due, liberando Ilda. Dopo la vittoria dei Cavalieri contro Ilda, l'armatura scompare, non la rivediamo praticamente più, per quasi vent'anni, fino a Senzaia Suovo Gold. E quando viene creato lo spin-off di Suovo Gold, ambientato ad Asgard, si decide bene di riportare in scena, negli ultimi episodi, anche l'armatura di Odino. Per prima cosa, scopriamo che l'armatura di Odino si può rimpicciolire. Infatti, in una maniera molto bizzarra, molto particolare, era stata nascosta da uno dei nuovi Cavalieri di Asgard, Utgard di Garm, all'interno del suo corpo. E quando viene trovata da Frodi, praticamente viene trovata dopo che Frodi ha sconfitto Utgard, Utgard si è suicidato, è una parte un po' caotica della serie, e all'interno del corpo di Utgard esce il totemino formato gaccia, praticamente, formato giocattolo dell'armatura di Odino. Quindi è una corazza che, all'occorrenza, si può rimpicciolire. Viene poi indossata da Ioria, e nel momento in cui Ioria lo indossa, l'armatura diventa dorata. Ora, questa scena, a parte il discorso commerciale, perché ovviamente è stata creata per mettere in commercio anche il modellino di Ioria con l'armatura dorata di Odino, ma non bisogna interpretarla in una maniera troppo profonda, nel senso che l'armatura di Odino non è mai stata bagnata dal sangue di un cavaliere d'oro, quindi non c'è una riparazione dietro, qualcosa del genere. È possibile che sia una corazza che si adatta al cosmo di chi va indossa, il che spiegherebbe perché appunto Pegasus non aveva avuto un particolare power-up. Può darsi che non sia un'armatura che potenzia chi va indossa, ma sia lei ad adattarsi al cosmo del cavaliere che va indossa. Indossata da Pegasus gli dà più o meno la sua forza standard, indossata da Ioria si pone più o meno livello armatura d'oro, forse qualcosa di più, visto che è sempre una corazza divina, però ecco, niente di eccezionare sicuramente. Sembrerebbe poi andare distrutta durante la battaglia finale contro Occhi, però è improbabile che questa sia stata la sua fine definitiva. Serviva che Ioria indossasse, che tutti i cavaliere d'oro indossassero l'oro God-God-Krot per sconfiggere Occhi, però è improbabile che l'armatura divina sia stata fatta a pezzi. Si potrebbe a questo punto valutare se l'armatura di Odino sia più o meno potente di un'armatura d'oro divina, visto che Ioria con un'armatura d'oro divina sembra in grado di fare qualcosa in più. Però poi la serie cambia un po' verso la fine, intervengono tutti gli altri cavalieri d'oro e diventa un po' complicato trarre delle conclusioni definitive. Ma credo che, se mai verranno ambientate nuove serie ad Asgard, sicuramente anche l'armatura di Odino ritornerà. Un'ultima particolarità che spesso viene messa da parte ignorata dell'armatura di Odino è che, per gli spettatori dell'anime, ha introdotto l'idea che anche le divinità avesse un'armatura. Questa può sembrare una banalità adesso, però fino a quel momento nell'anime, unica divinità che conoscevamo, cioè Atena, non aveva nessuna corazza, né si era mai parlato di un'armatura di Atena. Chi conosceva il manga aveva già visto Nettuno, Poseidone con la sua corazza, però chi era soltanto discepolo dell'anime attraverso l'armatura di Odino venne a scoprire che nel mondo di Senseia anche le divinità possiedono delle corazze. Non combattono soltanto bruciando il cosmo, ma sono protetti anche loro dall'armatura. E, ripeto, se pensiamo all'anime Atena, ma in effetti anche Discordia, Eris nel primo film, Abro nel terzo, tutte le divinità tendevano a combattere solo col cosmo, ma senza nessuna protezione. Invece, più un'idea del manga, quella di avere delle armature che proteggono anche le divinità. In questo senso, l'armatura di Odino, pur essendo creata per l'anime, segue più le idee del manga che non quelle dell'anime estresso. Sempre a livello, per così dire, statistico, Balmung rappresenta la prima volta in cui Pegasus combatte armato contro un nemico. Fino a quel momento, infatti, non aveva mai dovuto usare, nella serie principale o meno, l'arco del Sagittario o scoccare la freccia del Sagittario. È qualcosa che aveva già fatto nel primo e nel secondo film, a quel punto, ma mai nella serie principale. Ed è anche la prima volta in cui Seiya combatte con una spada. Quindi, sono tutta una serie di situazioni un po' inusuali in cui viene messo il nostro Pegasus. Anche se se la cava comunque bene, mostra una buona capacità marziale con la spada, tant'è vero che poi riesce a salvare Ilda. Voi cosa ne pensate dell'armatura di Odino? È una corazza su cui vi piacerebbe scoprire qualcosa in più? Vorreste che venisse ripresentata in futuro? Oppure dopo su Wolfgold la famosa scena di Ioria che usa Balmung come tavola da surf? Diciamo che ne avete avuto abbastanza e quindi è meglio che non si riveda più? Scrivetelo, come sempre, nei commenti qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!